La situazione all'interno della corte britannica è sempre più tesa. Kate Middleton, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe scappata in lacrime da Buckingham Palace. Il motivo? Un gesto compiuto da suo cognato, il principe Harry, sotto la spinta di Meghan Markle. La goccia che ha fatto traboccare un vaso troppo pieno di incomprensioni, frecciatine, dispettucci. La serenità che si vede dipinta sui volti dei fantastici quattro Kate, William, Meghan e Harry sembrerebbe essere tutta una finzione, un affetto di facciata che celerebbe invece dei profondi malumori. Kate Middleton. La notizia che la ha fatta scoppiare in lacrime. A svelare il retroscena della tesissima situazione a Buckingham Palace, è stata una fonte molto vicina alla Royal Family. Che in un'intervista al magazine New Idea, ha raccontato cosa sta realmente accadendo all'interno della corte britannica. A far uscire fuori di testa Kate Middleton, sarebbe stata la decisione presa dal principe Harry, di lasciare definitivamente la Royal Foundation. L'associazione a scopo benefico fondata nel settembre 2009 dai figli di Carlo e di Diana. Pare che proprio Meghan Markle abbia spinto il principino ad allontanarsi dal fratello William. Tanti hanno dipinto la scissione come naturale, scriveva il magazine News Weekly. Ma è evidente che dietro ci fossero dei problemi tra Kate e Meghan, le quali non erano d'accordo su come gestire la fondazione. Kate Middleton non avrebbe retto alla notizia e, stando alle indiscrezioni, sarebbe scappata in lacrime da Buckingham Palace, e avrebbe deciso di rifugiarsi qualche giorno a Balmoral, per stare lontana dai media. Kate ha spiegato la fonte anonima vicina alla Royal Family e incredibilmente turbata per questa separazione. Non riesce a credere a tutto quello che è successo. Questa scissione è stato il suo peggior incubo che è diventato realtà. Sembra che il 2019 sia stato segnato da una serie di drammi di cui la separazione da Harry e Meghan ha solo l'ultima goccia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.